Bella a tutti, qui è DruyalGrawl e oggi sono su un indie game di nome Craven Manor, spero che si pronuncia così, sennò si attacca. E appunto Gondette è un indie, un gioco indie, horror, sennò non lo facevo con la lifeguard. E niente, quindi tecnicamente essendo un gioco indie non dovrebbe essere lunghissimo, quindi niente, iniziamo. Ah cazzo! Wow. Perché sono così stupido? Sono così... stupido. Ah, che si vede bene? Troppo bene, non può essere un gioco indie. S per camminare indietro, ok. Aspetta, facciamo un attimo options. se faccio così il massimo, cosa com'è? Beh, così va bene. Ok, quindi... qui cosa c'è? Token. Heavy Bronze Ornament. Un ornamento pesante di bronzo, con le lettere KM. E' bellissimo come lancia le cose. In su. Oh, che fatto strano. No, no, niente, lascia stare. Eh, quindi questa è tipo, è una minima... Ah, che palle. Ecco. È una minima mappa del posto, quindi... Boh. Ok. Ci sono diverse cose che illuminano. Ah. Dovei mettere un... l'ornamento. L'ornamento? Si diceva l'ornamento. Ancient Pux. Ah, questo grame ne fia da niente. Memo. Ok. Ok. Non mi piace. Hm. Ti tengo d'occhio. Dai, rilasso, vediamo questa luce. Ah. C'ho anche la luce. Il flashlight. Ah. 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 Cos'è, eh? Eh, over the left one? Si. Con E e il mouse destro. Sinistro, volevo dire. Posso controllare certi oggetti. Hm. Cosa c'è qui sotto? Non posso passare. Facciamo uno scatto. Unde, unde. Qua cosa c'è? Eh. Posso manipolare... Oggetti. Eh. Wine Cellar Modern. Oh, cazzo! Ah. Scusate. Il coso del vino, il... Eh? Ops. Il modello del... Di dove si mette il vino, no? Della cantina, ecco. Se c'è di bello in sto fuoco. Boh. Jay per aprire... Un libro. Ok. Quindi qua dice che ho... Ma che cazzo! Cosa è questo? Cosa è questo? Un pezzo di stato. Ok. Quindi questo... Posso? Posso mettere un po' come voglio? Ok. Exit. Quindi... Lì si appena aperta una porta. No, lì. Ah, lì sopra l'ho aperta. Ah, pensavo che era giù. Vabbè. Comunque qua c'è un pezzo di cosa. Ehi. Ehi, ehi, ehi. Dov'è? Dov'è la statua? Dov'è? È chiusa. È tutto chiuso. La mia flashlight. Luce benedetta di Dio. Oh, cazzo. Non mi piace per niente. Ma io, cazzo. Non mi piace per niente. Cos'è questo? Oh! Scusate. Ah! 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 Puttana! Ah! Ah! Cosa c'è qui? Posso? E vino spero Non sangue Ehi topolini Che belli sti topolini Ehi Sapevo che non mi dovevo fidare di Oh Oh esci Esci Ok esco Non volevo Scusami Non posso Non posso Non posso Non posso Mi sto veramente Cazzo Cazzo Oddio Stiamo lontano No 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 Stiamo lontano BF Non ti chiedo altro Oh un altro pezzo Fanculo Scatto And fuck this shit Cos'è questo posto? Cioè cos'è quello che ho in mano? Abbottiamolo un altro giù Bedroom La stanza lì per dormire Stanno da letto lì Abbottiamolo qui Ok Quindi Ma io posso salvare così? No Salva da solo Va bene Sapevo che non mi dovevo fidare di quella statua E mi zunzo lì Ah Appena salvato adesso Perfetto Oddio Non mi piace per niente Book Non posso passare Giustamente Solo qui E sapevo Dove sei bastardo Succhiapalle Sangue Ehi Ehi un mini tè Posso neanche fidarmi dei mini tè Scommetto Crime Scena Oddio Non mi dire che è stata Ospite di Una scena A criminale Sta casa Cos'ho appena detto Non so neanche se ha senso Cos'è No 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 Per favore No Non c'è un cadavere qui dentro Vero Oh Cazzo Oh Cazzo Oh Strange Grub Si è caduto Fanculo Fan Mad Non c'è una porta lì prima Oh Non mi piace Oh Non mi piace No Ho aperto qualcosa Cos'è che mi dice Ah Bello Cos'è questo Oddio Oddio No Perché ho spento la luce Che cazzo di camera diretta è questa Oddio Si è spenta la luce Ah no Cioè Aspetta adesso Ok Ok c'è del sangue Eh Ma non ha un cazzo di senso Esci Bene Bene Quindi Mettiamo via un attimo il bedroom Ecco Aspetta Aspetta Non c'è Non c'ero già dentro Il library Che serve là Lì via Del cazzo l'aperta Quanto vanca Due minuscia Mala Che cazzo l'aperta Seriamente Qui no Anche perché non ci voglio entrare lì Qui l'aperta No Oh cazzo Oh cazzo Vai basta L'aperta qui no Sapete cosa Facciamo salvare il gioco Cos'è stato Non si salva Posso passare di qua adesso Ah Qua Ah ma non mi stanco Figa Pensavo che non potevo stancarmi Che mi faccio a salire? Boh Aspetta Cosa dice Ho capito Ho capito Se non sbaglio C'ha scritto Che aveva due entrate Allora Come faccio Cos'è Sto cosa Ecco Ah Ha detto che aveva due entrate Quindi se li faccio così Mi dovrebbe dare la seconda entrata Adesso quel porto Ok salvataggio Io direi di lasciarvi qui Quindi Sì È perfetto Diciamo Quindi 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 E quindi Quindi Ah niente Questa è la fine del Primo episodio di Craven Craven Manor Sì penso Indie Game Horror Spero che vi piace Perché non è male come gioco Cioè Già guardare Da parte tecnica Non è male Ma anche quella statua di Madden Mi ha fatto cagare sotto Come Quindi come componenti Over ci sono E niente Spero che vi è piaciuto Il primo episodio Di Craven Manor Craven Sì E niente Qui è The Real Droll Bella Bella Ciao